Ciao, benvenuti in un nuovo video! Oggi scopriamo insieme come riutilizzare i fondi del caffè, creeremo degli scrub viso, corpo e anche un rimedio contro gli occhi gonfi. Partiamo dalla prima ricetta, faremo insieme uno scrub labbra e mani, ci servirà un cucchiaino di fondo di caffè, la caffeina è un potentissimo anti-età, e un cucchiaino di miele, io in caso ho questo millefiori, voi potete utilizzare il miele che buonete, comunque il miele è invece un potentissimo antiossidante, idrata tantissimo la pelle perché proprio va a contrastare la secchezza cutanea. Vado a miscelare il tutto e poi vi faccio vedere il test, quindi faccio lo scrub sulle labbra, mi raccomando delicatamente, ma fate uno scrub accurato di 1-2 minuti e come vedete non ho pellicine, anzi le labbra sembrano molto più rimpolpate e lo stesso scrub lo utilizzo anche per le mani e risulteranno morbidissime. Passiamo ora alla seconda ricetta, faremo insieme uno scrub per il viso e per il corpo, considerate che le dosi che vi faccio vedere sono per il viso e per il corpo, dovrete aumentarla, comunque utilizzo un cucchiaino di fondo di caffè, mezza bustina di zucchero di canna e come olio ho scelto l'olio di karité perché è super idratante e nutriente, rende la pelle molto più elastica ed è un potente anti rughe, oltre che ha un potere lenitivo e protettivo pazzesco. Lo proviamo insieme, vado anche qui delicatamente a massaggiarlo sul viso, faccio un bel massaggio di circa 5 minuti, poi sciacquo e come vedete la pelle risulta molto molto più liscia. Siamo arrivati alla terza ed ultima ricetta, faremo insieme una maschera anti occhiaie, ci servirà un cucchiaino di fondo di caffè e un cucchiaino di aloe vera, mi raccomando tenetela sempre in casa perché non solo è un anti age pazzesco, ma calma, infiammazioni, irritazioni ed è super super idratante. Ed ora proviamo insieme la maschera, semplicissimo, con il dito vado ad applicarla sotto al contorno occhi, mi raccomando fate attenzione che i granuli non vadano all'interno dell'occhio e aspetto circa 20 minuti, quando ho tempo anche di più cerco di farla almeno 3-4 volte a settimana e vedrete se la farete, sarete costanti, vi risulteranno le occhiaie molto molto meno gonfie. Ok, siamo arrivati alla fine del video, spero come al solito che vi sia piaciuto e che sia stato utile, fatemelo sapere con dei commenti e anche un bel like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, vi aspetto anche su Instagram, noi ci vediamo qui sul canale, al prossimo video, bacione, ciao!